Salve a tutti, in questo video vediamo come disabilitare la nostra webcam integrata, ma anche una webcam esterna. Per quella esterna è molto facile perché basta staccare dal computer, però per quella integrata molti si chiedono io voglio disabilitarla in modo che non mi sia attivi neanche per errore, come faccio? È molto semplice, allora basta andare qua sulla barra di ricerca e scrivere gestione dispositivi. Già con gestione dovrebbe venire fuori, gestione dispositivi. Quindi clicchiamo e andiamo a cercare la voce dispositivi di acquisizione immagini. Va espansa e qua trovate il nome della vostra webcam integrata, che è questo, nel mio caso non è quella integrata, è quella esterna. Comunque fate conto se è quella vostra integrata, fate tasto destro, disabilita dispositivo. Sì? Ci chiederà di riavviare il computer, noi diciamo di sì e a riavvio questa periferica verrà disabilitata. Quando volete riabilitarla, dobbiamo tornare in gestione dispositivi, tornare qui e fare tasto destro, abilita dispositivo. In questo modo. Ecco fatto. Perfetto. Quindi questo è il modo per disabilitarla in modo che non vi salti più fuori in nessun programma, ad esempio programmi di videochiamate o altre cose. Un saluto a tutti.